La finestra su Ferrara, attualità cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben trovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Anche oggi la nostra finestra si apre sulla nostra città e si apre sullo sport della nostra città ed in particolare su un talento dello sport della nostra città perché oggi è con noi Luigi Pasetti, classe 1945, grande calciatore, grande difensore della SPAL e poi dalla SPAL è passato alla Juventus e ha fatto una lunga carriera che lo ha portato ovviamente ai massimi livelli del nostro calcio di quegli anni. Inizierei subito chiedendo a Luigi quando nasce la tua passione per il calcio? Immagino ovviamente come tutti da bambino, ma dove hai tirato i primi calci? I primi calci li ho tirati sull'Argine del Po, quindi io abitavo attaccato all'Argine del Po e si giocava continuamente nella libertà di scuola in poche parole. La mia passione è nata lì, dove poi sono passato sul campo sportivo e dal campo sportivo c'era un'abitudine, si giocava a tirare i rigori e a parare e si giocava una sigaretta. Io ho un amico che continuamente mi offende perché ha problemi di polmoni, perché io tiravo i rigori e poi andavo in porta e li paravo, non ho mai fumato però, quindi sono partiti da lì. Luigi va ricordato, è nato a Francolino, quindi ovviamente ha iniziato proprio a giocare al paese. Quando inizia a entrare in una società sportiva? Cioè quando hai investito la prima maglia diciamo? Beh diciamo a 14 anni la Libertas di Ferrara, quindi la Libertas di Benfenati, ho fatto un anno lì negli allievi, Mazza mi ha visto, mi ha chiamato a provare e mi ha portato alla spalla. Siamo andati in tre, io e due ferraresi, di cognome ferraresi, Claudio e Gianni Ferraresi e siamo stati venduti per 75 mila lire in tre. E di lì è partita la mia carriera dalla spalla. Stiamo parlando del 60 alla spalla, mentre io però, torniamo indietro un passo, la scuola non l'ho finita perché la mia famiglia era una famiglia non ricca, ma di grande difficoltà perché mio papà andava a pescare, poi faceva il calzolaio e di conseguenza io ho dovuto andare a lavorare. Partivo da Francolino in bicicletta per fare il garzone di macellaio. Al mattino partivo alle 5 del mattino, tornavo quasi alle 2. Il sabato stessa cosa, solo che invece di andare a casa andavo al campo a giocare, poi ritornavo in bottega fino ai 10 di mezza di sera. Quindi diciamo che la mia fase fisica per quanto riguarda la potenza delle gambe è stata sviluppata lì, con la bicicletta per pedalare e pedalare, ero già, insomma, ero rapido come giocatore, ecco anche. Possiamo dire che eri già abituato diciamo ai sacrifici perché poi in quegli anni insomma i ragazzi anche giovanissimi come te insomma dovevano andarsi da fare per dare una mano. Eh sì, la mano sicuramente alla famiglia perché il discorso era lì. E quindi voglio dire, questo ti ha aiutato anche perché tu eri un difensore molto veloce e anche molto fisico. Ero resistente, quindi la mia forza era quella lì. La mia forza è stata quella di non avere paura e timore di nessuno. Quindi, tornando al discorso di prima, Masta mi ha preso, con il mio dottore di lavoro per un anno mi dava il permesso due volte alla settimana al mattino per andare ad allenarmi, poi tornavo in bottega e continuavo a lavorare fino alle 2. L'anno successivo Masta mi ha chiamato e mi fa Cosa c'ha appato a lavorare? 5 mila euro alla settimana, attenda 10. E allora ho parlato con mio padre, mio padre mi fa Vabbè, sei sempre in tempo a fare la zona della settimana. E da lì è partita la mia carriera, in quanto ho fatto tutte le giovanili, sono arrivato a giocare in Serie A a 18 anni, che tornavo dalla Nazionale Juniors, che è l'attuale Lander 18. E quindi da lì è partito tutto, ecco. Quindi grandi capacità, sia tecniche che fisiche, perché per andare in Nazionale si è selezionati ovviamente tra migliaia di giovani. Sì, in quel periodo lì magari ce n'era un pochino meno, nel senso che c'era solo la Juniors e quindi si andava con quelli. Però era una soddisfazione grandissima per me, che ho giocato con gente come Riva, Savoldi, Chiaruggi, quindi le soddisfazioni sotto quell'aspetto me le sono prese. Però giocavo già in prima squadra, poi quindi nel senso che io sono tornato dalla Nazionale ai primi di aprile, la domenica. Il martedì Masta mi chiama e mi fa Adman a tuasugar, come va? Sì, a Bologna. Io avevo solo detto, il mio sogno è stato lì a Bologna. Quindi in un derby, addirittura, in una partita molto pesante. In un derby pesante, che io non avevo mai mirornato una volta o due, sì, una volta con la prima squadra. E quindi sono partito senza paura, ho giocato contro l'Alder, mi sono strappato perché venivo da 3-4 partite in una settimana. Sono rimasto in campo perché una volta non c'era la sostituzione. Poi dopo sono rimasto fermo fino a fine campionato, siamo ripartiti in Serie B e dalla Serie B sono partiti di trovare. E io ho fatto 28-29 partite su 30. Che clima si respirava a Ferro? Era un altro calcio, era un altro clima. C'era l'abitudine che noi, la sede era in via dei Romei. La domenica mattina si sieravamo da Giovanni, lì vicino al castello, a mangiare. Finito di mangiare si andava in sede. Mastra Petagna, che era il nonno di Andrea, diceva la formazione e le marcature. Io prendevo il motorino e andavo a casa a giocare a brisco la 3-7 alla casa del popolo. Quella era la tensione della partita che avevo io, che avevamo noi in generale. Si tornava allo stadio, si faceva l'iscaldamento dove la gente passava e si andava a giocare. Si chiama il gioco del calcio, quindi noi interpretavamo il gioco come gioco. Quindi c'era grande leggerezza rispetto ad oggi. Sì, non c'era questa tensione che ci può essere adesso. I media che parlavano meno, magari anche perché poi noi abbiamo sempre lottato per salvarci. In conseguenza il nostro obiettivo era quello. L'affetto della città intorno ai colori bianco-azzurri era forte? Era forte l'affetto e non ci hanno mai, 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 diciamo, offeso. Non è come adesso che magari tu sbagli nella partita o poi retrocedi. Mai, non era mai successo. Quindi diciamo il Ferrarese... Sapeva il Ferrarese che le nostre possibilità erano quelle. Sapeva che Mazza doveva far giocare 3-4 ragazzi, 1-2 poi riusciva a cederli e faceva il campionato dell'anno successivo. Sapeva che se si retrocedeva l'anno successivo si lottava per vincere il campionato, per andare su. Di conseguenza era quello. Non ha mai chiesto più di tanto. Diciamo che la Spada era una squadra che in Serie A appunto faceva un campionato per salvarsi mentre in Serie B ovviamente giocava, se la poteva giocare a tutti gli effetti. Se la poteva giocare a tutti. Infatti però, come dicevo prima, Mazza tutti gli anni obbligava, fra virgolette, l'allenatore a far giocare 2-3 ragazzi. Perché l'obiettivo primario era quello. Prima di retrocerlo, precedente, ha dato via Cappello e Bosdaves. Uno a Napoli e uno alla Roma. L'anno successivo si è matto via in altri due. Io e Stanzial. C'era sempre questa abitudine, questa richiesta perché non poteva fare altro. Non era come quelli da adesso che possono tirare fuori 3, 4, 5, 6, 10 milioni di euro. Oltretutto lui metteva anche in tasca perché è chiaro. Vabbè certamente. Era veramente bravo. Aveva questo occhio lungo, diciamo, riusciva a vedere i giovani, li lanciava e soprattutto diciamo aveva anche il coraggio di farli giocare. Ma aveva il coraggio sì, ma infatti la Spada era quella, è sempre stata quella lì. Finché c'è stato Mazza è stata quella. Poi nel tempo possiamo stare. Tu avevi un rapporto particolare evidentemente con Mazza, essendo tu stesso ferrarese, poi ci hai appena raccontato che ti telefonava personalmente, diceva preparati che vai a giocare qui, vai a giocare là. Che personaggio era Paolo Mazza? Era molto burbero, però io posso dire, non sono mai, mai stato sgridato da lui, mai. Però mi ha sempre dato poco perché l'ultimo campionato che abbiamo fatto, io ero andato via con la Nazionale che sono stato via due mesi, che siamo stati in Inghilterra per la preparazione, sono stati 40 giorni in Inghilterra. Poi siamo stati in Italia due settimane, poi siamo partiti per la Tunisia a fare i giochi del Mediterraneo. Sono tornato che la Spada aveva perso 4-0 a Napoli. Io non avevo ancora firmato il contratto, non sapevo niente, mi chiama, quanto mai, di solito lui non chiamava, ti diceva prendi questo e buonanotte, vado nel suo ufficio che ieri era qua, in Borgoleone, mi chiama e fa, Cusavot, Filippo Ferrarese, il Presidente mi darà 7 milioni, tu firma, puttana miseria, ho detto. Non te l'aspettavi, pensavi che... Assolutamente, no, perché di solito ti tirava via, e poi mi ha pomiglia, il discorso è quello lì. Quindi era questo Mazzar, Mazzar, come dicevo prima, lui non mi ha mai, 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 mai detto niente, mai, sotto questo aspetto. Quindi io rendevo anche, perché davo sempre il massimo, perché giocare contro Sivori, contro Rivera, contro Mazzola, contro sta gente qua, insomma non era da tutti i giorni. Erano i migliori giocatori che c'erano in questo campionato. Io mi ricordo Luigi, o qualche anno o meno di te, che ero, tu eri ragazzo, io ovviamente ero bambino, tu eri veramente un idolo a Ferrara, tu eri veramente amato. Perché non me lo avevo mai, perché non avevo timore e paura di nessuno, rispetto, questo sì, ma mai paura. Io non sono mai andato in campo con il terrore, perché mi piaceva giocare, io volevo giocare, sarei andato, a quando sono andato io volevo giocare. A me piaceva giocare, sicuramente, alla Juve ho fatto 20 partite di campionato e altre 8 di Coppa, il campionato era di 30 partite, non di… e ho giocato, mi sono divertito anche. Poi sono andato a Palermo, io l'ho giocato anche a Palermo, solo ho avuto un problema muscolare, di conseguenza avevamo fatto delle filtrazioni che vanno… però il calcio era a Ferrara, il divertimento era alla spada, con i giovani, perché come ti dicevo prima, abbiamo giocato a Roma contro la Roma, abbiamo vinto 2-0, abbiamo fatto una fotografia in Fontana di Trevi, eravamo in 5 ragazzi di 18 e 20. C'era Cappello, che era il più giovane, poi c'ero io, c'era Reia, c'era Moretti, c'era Bertuccioli, 5, non 1, 5, adesso parlano di 1, eravamo in 5, giocava in Serie A già da 2 anni. Era un calcio veramente, poi quello di Mazza in particolare, che dava grandi spazi ai giovani. Beh, per quel motivo lì, perché lui doveva fare così, altrimenti non riusciva a fare i campionati. Luigi, tu sei stato a un certo punto, come ci anticipavi prima, ceduto alla Juventus, come è stata questa tua avventura, perché passi praticamente dalla città tranquilla, provinciale, dove sei nato, perché essendo di francolino praticamente la tua vita si svolgeva intorno a Ferrara, come ti sei trovato nel Torino della grande Juventus? Mi sono trovato benissimo perché sono stato accolto dalle persone, oltre ai giocatori c'erano degli uomini veri, tipo Del Sol, tipo Leoncini, tipo Salvadore, tipo giocatori che mi hanno dato una mano grandissima a inserirmi e mettermi insieme agli altri, di conseguenza. Già a Vilar Perosa mi hanno accettato benissimo, io non ero uno di quelli che se la tirava, di conseguenza sono stato benissimo a Torino, mi sono adeguato abbastanza bene, diciamo. Anche perché ogni 15 giorni venivo a casa, perché avevo la mia ragazza, che adesso è mia moglie, era dura nel senso del fatto del viaggio, perché partivo alle 9 del 1 di mattina, arrivavo a casa a l'1 e l'indomani mattina alle 5 dovevo partire perché se si arrivava a Torino con un quarto d'ora di ritardo al campo erano 50.000 che Riberto ti dava. Quindi fioccavano le multe? No, io non le ho mai prende perché non avevo problemi sotto quell'aspetto lì. Bene, mi sono trovato bene. Quindi hai vissuto quest'anno alla Juventus, dove tra l'altro dicevi su 30 partiti nei giocati 19, quindi insomma un campionato piuttosto... Sì, nei giocati 19, poi ho giocato con la nazionale Under 23 che ho fatto il capitano, un paio di volte. Quindi anni di grandi soddisfazioni. Beh direi perché per quanto riguarda le nazionali, ho giocato con la Munoz quando ero a Ferrara, quindi avevo 18 anni, poi ho fatto 5 volte con l'Under 23, giochi del Mediterraneo, 20 tra l'altro, quindi sono arrivato quasi a salire, però gli altri erano più bravi. Infatti noi abbiamo fatto un amichevole contro l'Inghilterra quando abbiamo vinto il campionato europeo, che con noi c'era Anastasi e Riva, che poi sono andati a giocare con la nazionale. Sì, quindi praticamente hai giocato con il fiorfiore dei campioni che c'erano in quel contesto. Anche perché in quella nazionale lì, Under 23, che si chiamava Under 23, le risiedono Chiarugi, Savoldi e Prati, tre giocatori che poi hanno vinto gli scudetti con Milan, Fiorentina, quindi il discorso è lì, la qualità. Sì, sì, eravamo al top veramente. Sì, c'era il meglio. Sì, sì, poi hai parlato di Prati, hai parlato di Savoldi, Chiarugi, Bomber che poi hanno fatto gol. Hanno fatto le fortune della sua società, perché poi dopo la Fiorentina ha vinto il campionato italiano, quindi Milan ha Comprati, Iden, Savoldi, poi ha fatto Bologna, Napoli, di conseguenza erano giocatori di un certo livello. Stiamo parlando dei giocatori più bravi che in quei anni c'erano in Italia, esatto. Ti volevo chiedere Luigi, dopo questa esperienza alla Juventus, vieni ceduto e praticamente vai dalla parte opposta dell'Italia. Ma io dovevo andare l'anno precedente, l'anno prima Mazza era in trattativa col Palermo, dopo ho intervenuto la Juventus, mi ha dato la Juventus, però anche in quel periodo lì. Ma io a Palermo mi sono trovato benissimo, ho avuto un problema il primo campionato di Serie A, che abbiamo fatto una partita con la Sampdoria dove ero stato migliore in campo. Il giovedì si è andato a giocare su un campo intera battuta, ho calciato Napoli e mi sono strappato dall'inserzione. Il sabato, la domenica dovevamo giocare con la Fiorentina, il medico mi ha fatto delle filtrazioni e lì mi ha rovinato perché facevo tre partite e poi mi facevo male. Però sono stato benissimo. Diciamo che per averti in campo ti hanno lenito il dolore senza però curarti la problematica. Non c'erano le cose che ci sono adesso di conoscenza. Trovamo tre partite e poi dopo riprendevo e tu hai fatto cinque anni così. L'ultimo anno mi ha chiamato il Piacenza che c'era il GB Fabri, mi ero fatto la casa, mi era nato un bambino quindi di conseguenza volevo avvicinarmi ma no. Loro volevano tenermi lì e sono venuto via e poi di lì ho fatto ancora un paio d'anni poi anche perché una volta a trent'anni eri vecchio. Io trent'anni avevo già fatto dieci campionati di Serie A. Come hai vissuto Palermo? Cioè la società ma anche la città che è una città molto calda e molto... Io abitavo a Mondello quindi abitavano un posto bellissimo quindi andavano in spiaggia, mi facevano una mia passeggiata. No poi io ero visto abbastanza bene dalla gente diciamo, dalla gente di Palermo. Eri uno comunque che dava tutto in campo e la gente apprezzava questo. Apprezzava questo. Quando uno come si dice esce con la maglia sudata è sempre molto apprezzato. Infatti l'ultimo anno che sono venuto io via, ero già in ritiro e non volevano che venissi via però gli ho spiegato guardate le cose che stanno così e così e allora Presidente Barbera che era una persona favolosa come bontà, come modo di... Infatti io una volta l'ho offeso perché mi aveva promesso che mi dava lo stipendio in quel periodo ma non me l'ha dato e ho detto è una parola com'è. Però dopo mi è dispiaciuto. Torni a Piacenza perché ti vuole GB Fabri che già si conosceva. Sì, GB Fabri stavo facendo una squadra per vincere il campionato cosa che abbiamo stravinto perché a quattro partite dalla fine eravamo matematicamente promossi. A Piacenza si ricordano ancora di quel calcio perché era un calcio moderno che poi è quello che GB ha sempre battezzato. Era un divertimento. Non vedevamo allora che venisse la domenica per giocare. E anche lì dopo mangiato si andava al bar a giocare a carte. Eravate calciatori per passione. Per passione. Eravate professionisti ovviamente seri. Piacenza poi era quasi per passione perché c'era un Presidente che non ti dico se aveva promesso che ci dava 100 milioni se vincevamo il campionato a quattro partite dalla fine. Io non vi do mica niente. Abbiamo già vinto. Presidenti diciamo un po' così ballerini nelle intenzioni non li ha conosciuti solo la spalla in Bianni e Bui. C'era un po' dappertutto, c'era un po' dappertutto nell'ambiente del calcio insomma questi personaggi. Poi di lì sono andato a Adria e c'era Galeone come allenatore. Ci siamo divertiti con lui quell'anno lì. E ho fatto ancora un paio d'anni fino ai 34. poi ho cominciato a fare l'allenatore delle giovanili a Ferrara che mi ha chiamato Biagio Govoni ad allenare gli allievi. E lì è partito il mio lavoro. Di spalla complessivamente io ho fatto 35 anni. Quindi praticamente sei legato ai colori bianco-azzurri a vita insomma. Io credo sotto quell'aspetto. Anche perché come ho detto prima ci hanno pagato in 3,75 mila lire e quindi i 25 mila sono già stati ben presi. Quest'acquisto a 25 mila lire è stato ampiamente restituito alla squadra con gli interessi in termini di prestazioni sportive e anche economiche. Raccontaci un episodio di quando giocavi che ti è rimasto impresso per quanto è stato positivo. Cioè tu hai avuto diverse salvezze con la spalla campionati di massimo livello con la Juventus e anche campionati in cui sei stato promosso per esempio. Direi appunto l'anno della promozione che siamo partiti io come dicevo sono partito di Tolare ero l'unico io dei Bernardi poi abbiamo avuto un callo l'inizio al metà campionato poi siamo ripresi verso la fine che Mazza ha messo dentro altri due o tre ragazzi Moretti, Rei e compagnia Bella e siamo arrivati all'ultima partita a Potenza che il Modena giocava a Lecco se il Modena vinceva andava sul Modena e noi perdendo è successo che noi abbiamo perso 2-1 e il Modena ha parigiato di conseguenza siamo stati promossi e quando siamo tornati da Potenza c'era la gente che ci aspettava in città col pullman quindi è stato un ricordo è stato un ricordo molto molto bello indimenticabile immagino sì, punto invece un momento della tua carriera che ricordi invece un po' con dispiacere? il dispiacere è stato quello appunto degli infortuni continui perché come dicevo prima è piacere giocare di conseguenza ogni volta che mi veniva male questa gamba qua che poi sono rimasto a volte con il dubbio perché poi quando sono andato via da Palermo 38 su 38 ho fatto a Piacenza 38 su 38 quindi forse anche era un fatto psicologico perché non ho più avuto niente si è stato anche quello diciamo che la carriera è stata un po' ridimensionata anche per questo motivo perché tra l'altro il primo anno che ho fatto a Palermo che c'era a Cappello la Roma Gigi guarda che la Roma ti vuol prendere fino al campionato ormai ero strappato il fatto che tu non avessi una condizione fisica ottimale è stato un po' penalizzato è un po' penalizzato oggi tu sei un allenatore a tutti gli effetti sono un direttore tecnico per l'età perché fino ai 65 anni sei allenatore poi sei direttore tecnico comunque diciamo che il tuo ruolo è sempre quello di visionare i giovani di insomma di... allenare i giovani adesso visionare ancora non ho avuto modo però allenare si mi piace allenare perché mi piace vederli giocare mi piace vederli sorridere mi piace vedere che sono in libertà di espressione qual è diciamo il segnale per te che un ragazzo può avere un futuro rispetto a... tu ne vedi tantissimi beh sempre dipende a livello motorio come si muove dipende se è coordinato dipende se... poi dipende sempre dal cervello dipende da come uno pensa poi dopo è la struttura ci vuole pazienza perché sono dei giocatori che magari sono dei nani poi dopo nel giro di 3-4 anni sono giocatori che... ci vuole pazienza è seguirli e si vuole dei buoni istruttori perché secondo me purtroppo dico nei piccoli non ci sono buoni istruttori ci sono istruttori che si allenano per sé non per allenare i bambini perché un ragazzo di 12 anni 10-11 anni come facevo io che ero io a 12 anni giocavo 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 e giocando ho imparato senza che nessuno mi dicesse niente perché se io continuo a dire fai fai alla prima domanda c'è uno che dice ma giochi te o gioco io? quindi massima libertà di espressione massima libertà di espressione come fanno perché stiamo avendo pieno di nigeriani? per questo motivo e loro arrivano da un gioco che fanno spontaneamente arrivano da un gioco di libertà che era una caratteristica proprio negli anni in cui giocavi tu anche del calcio sudamericano brasiliani argentini ma è chiaro ma noi ci allenavamo nelle curve che ci sono adesso c'era diciamo una mezzaluna dove le giovanili si allenavano di qua la prima squadra si allenava di qua per un anno intero non per... il campo sembrava un campo di patate però era un adeguarsi alle difficoltà che ci trovava e questo tra l'altro vi... ci migliorava esatto ci migliorava perché è un conto che io so che la palla mi arriva è sicura all'altro conto so che non so come può arrivare quindi devo pensare prima adesso potrò diciamo le imperfezioni del campo aiutavano a sviluppare un'attenzione è chiaro è chiaro è chiaro adesso invece siamo i fantini vai di qua vai di là secondo me è sbagliato secondo me io lo penso io le ho in massima libertà quindi possibilità di esprimersi possibilità di esprimersi facendo domande non dando soluzioni faccio una domanda e tu mi devi trovare la soluzione quindi sviluppare diciamo una capacità si chiama sempre gioco dare proprio ai ragazzi massima libertà e poi anche perché ovviamente il talento si manifesta proprio quando può farlo quando è libertà e quando sbaglia anche se sbaglia la prima volta e lo comincio a riempire di insulti oppure di gridarlo non lo fa più Luigi tornerai un attimo alla tua carriera ne abbiamo parlato prima tu hai affrontato praticamente gli attaccanti più forti di quel periodo che c'erano di quel periodo quindi parliamo di nomi che sono passati alla storia del calcio e ci resteranno per molti anni qual è l'attaccante che hai patito un po' di più? Morrone della Lazio era un ala sinistra argentino è stato quello che mi ha fatto patire mi ho patito di più perché era un grande delibratore perché era un destro che giocava a sinistra e veniva dentro io sono un destro e mi metteva un po' in difficoltà nonostante che tu fossi un terzino piuttosto tenace tenace in tutto questo aspetto e poi anche molto veloce tu eri particolarmente veloce ero resistente e veloce un altro è stato Beretta della Francia un attaccante francese in una partita che mi ha fatto con la Francia era amichevole ecco un altro è stato quello lì però io ho marcato Meroni anche che era un grande giocatore grande si Gigi Meroni lo ricordiamo tutti talento straordinario talento straordinario in tutto che ha avuto purtroppo un destino tragico è stato investito mentre attraversava un viale a Torino tra l'altro investito da quello che poi dopo è diventato il presidente del Torino per cui un destino veramente da romanzo insomma era veramente un grande campione chi ricordi invece tra i tuoi compagni Luigi che ti aveva colpito per la sua bravura nella tua carriera in generale oddio arriva uno di questi che tra l'altro Massa ha fatto un errore perché i nazionali unioni non quando c'ero io ma l'anno precedente c'era De Bernardi e Riva ha preso De Bernardi De Bernardi è un ragazzo infatti Debbio è il primo che dice il forte era quello là e quindi anche Massa poteva sbagliare quindi anche Riva mi ha fatto una grande impressione come giocatore però direi anche Aller come giocatore di grande qualità tecnica di grande bravo nel dribbling perché adesso purtroppo non deve più nessuno di conseguenza c'erano perché tanti giocatori fra virgolette venivano dalla strada strada come intenzione come dicevo prima cosa che Cruyff ha detto io ho cominciato a giocare sulla strada perché tanto non cadevo se cadevo mi facevo male quindi cercavo di star sempre in equilibrio secondo quando la palla mi arrivava dovevo già sapere cosa dovevo fare e quindi la realtà è quella lì questo imprevisto appunto di giocare su un terreno in cui la palla può fare rimbalzi strani porta veramente a sviluppare maggiore attenzione maggiore capacità anche di gestire la palla poi e non è un caso se tanti campioni come te raccontano questa cosa cioè proprio che sono partiti da lì sono partiti da lì perché una volta era così altronde le difficoltà erano quelle adesso guai adesso stiamo tornando un pochino stiamo tornando perché si sta si sta rivedendo questo aspetto infatti tornerei al ragionamento che facevi tu prima cioè di questo arrivo di tanti giovani bravi totatissimi dall'Africa proprio perché loro giocano ancora in libertà giocavamo noi negli anni in cui eri ragazzo tuo ero ragazzo anch'io quindi speriamo che si continui io parlavo con Bissidi che è responsabile delle nazionali ha detto adesso curiamo molto di più questo meno male era ora tu conosci molto bene proprio per il tuo lavoro Luigi il calcio giovanile ferrarese stiamo lavorando bene a Ferrara potremmo fare qualcosa di meglio per quanto riguarda i dilettanti penso che si potrebbe fare qualcosa di meglio sempre tornando al discorso degli istruttori la SPAL sta facendo bene ma sta facendo bene con tanti ragazzi di fuori di Ferrara quindi vuol dire che non hanno fiducia o cosa anche se qualche ferrarese in giro c'è perché ce ne sono perché c'è un ragazzo all'Inter due a Sassuolo 2001-2002 un altro un altro ragazzo all'Inter quindi ci sono ragazzi alla Lazio ce ne sono però si vede che preferiscono prendere da un'altra parte però non succede l'ultimo che è uscito da Ferrara è stato Matteo Ferrari sì sarebbe bello vedere ovviamente come ai tempi quando c'eri tu che a vedere qualcuno nato a Ferrara nato nel nostro territorio che indossa la maglia bianco-azzura devo dire la verità che a livello dilettantistico abbiamo poco perché io quest'anno ho fatto un campionato con la Copparese a livello dilettantistico non c'è niente è poco ecco cos'è cambiato secondo te nell'insegnare il calcio ce l'hai già detto ovviamente dicendo che non si lasse più tanto spazio ai giovani per dimostrare il loro talento la scuola di calcio comunque secondo te io proibirei la scuola a calcio prima perché torniamo al discorso di prima perché c'è sempre qualcuno che dice fai io preferirei che i bambini giocassero in libertà su campi sconesi dove c'è e lì si vede anche il talento perché io mi ricordo che sono stato a calcio in Argentina fino a 5-6 anni fa andavo un giorno siamo arrivati c'erano dei bambini che giocavano in un campo che sembrava un campo di patate ma vedessi come giocavano bambini di 10-12 anni ma come giocavano perché avevano le capacità avevano le qualità poi dopo lì anche perché sono bravi nel dribbling e se il dribbling quando hai dribbato uno sei già in superiorità quindi sei già più avvantaggiato di conseguenza invece noi non dribblare allora possiamo stare qual è Luigi la differenza fondamentale cioè quello che salta più agli occhi a te che ovviamente di calcio te ne intendi assolutamente tra il calcio degli anni tuoi appunto di Rivera dei Mazzola e il calcio attuale quello che dicevo prima che c'era più qualità tecniche quindi Rivera e Mazzola che facevano le cose in velocità perché facevano le cose Rivera addirittura pensava anche un attimino prima adesso secondo me siamo siamo degli robottini adesso in questo momento va in modo alla grande fisicità però dopo abbiamo tre nazionali di 1,60 e abbiamo un nazionale che leggevo stamattina ha pagato 50 milioni di euro che è barella quindi qualcosa non quadra solo che nessuno lo dice a livello giovanile perché fa comodo il risultato è chiaro che a livello giovanile se tu hai 15-16 anni sei 1,80 sei veloce ti metti già in evidenza e dopo? tornando alla tua carriera perché ovviamente si parla di calcio di tecnica del calcio e quindi di allenatori qual è l'allenatore nella tua carriera con cui ti sei trovato meglio? GB GB Fabry GB perché interpretava il calcio come lo penso io primo perché lui era un grande appassionato di calcio grande gli piaceva giocare gli piaceva lui era un divertimento a vederlo giocare a calcio tennis perché si gasava dopo una rovesciata dopo una il sabato mattina a Piacenza lo stadio la Galeana c'è un posto fuori dal campo fatto a triangolo si metteva una porticina qua e una porticina di qua e si giocava dalle 10 alle 11 e mezza il sabato mattina e lui per primo ogni volta che faceva gol sembrava un bambino e quelli trasmetteva questa passione anche a noi quindi un calcio di allora fatto di molta più passione e meno scienza calcistica meno scienza calcistica più libertà anche perché io ho giocato quando sono stato a Londra abbiamo fatto 5 amichevoli con squadra abbiamo giocato contro il Manchester United che nel Manchester United c'è un giocatore che si chiama Best e il sottoscritto l'ha marcato dall'altro era Bobby Chalto il difensore centrale e la mezzala era Love che giocava anche nel giocatore nel Torino quelli erano giocatori stiamo parlando dei giocatori a livello mondiale a livello mondiale a destra era best in un certo momento però non avevo paura rispetto ma non paura ma a massimo faceva allora qual'era il problema ti ho chiesto Luigi se c'è stato un allenatore con cui hai avuto un rapporto speciale in positivo e giustamente mai ricordato il grande GB Fabry c'è invece qualche allenatore con il quale ti sei sentito incompreso che comunque in qualche modo pensi che non ti abbia dato lo spazio che meritavi no perché tutti mi hanno dato lo spazio che meritavo io appunto che ho avuto questo problema di infortunio che mi ha permesso di giocare però tutti mi hanno mi hanno considerato mi consideravano e quindi è stata anche una situazione da quella parte lì insomma ecco bene io direi che possiamo chiudere qua il nostro programma di oggi e ringrazio Luigi Pasetti detto Gigi una colonna della Spal tutti i ferraresi lo ricordano come un grande campione un difensore veramente arcigno che soprattutto aveva il grandissimo pregio che dava il 100% ogni volta che saliva in campo la sua carriera è stata una carriera veramente di altissimo livello diverse volte nazionale abbiamo sentito i giocatori che ha avuto modo di contrastare durante la sua carriera stiamo parlando di giocatori a livello mondiale di quel periodo una carriera che purtroppo come ci diceva a causa di alcuni infortuni che ha subito quando era al Palermo gli hanno impedito di andare magari alla Roma o comunque di avere ulteriori sbocchi anche a livello europeo ma sicuramente un ferrarese di grande talento un ferrarese di altissima qualità è stato un piacere per noi poterlo ascoltare anche da parte mia grazie Luigi vi ringrazio anche a voi per averci seguito fino qui e a risentirci alla prossima puntata della finestra su Ferrara avete ascoltato la finestra su Ferrara attualità cronaca ed avvenimenti cittadini per la finestra su Ferrara vi ringrazio anche a voi Grazie a tutti.